Ambiente è su tutte le matrici ambientali con attrezzature di elevato livello tecnologico sia fisse che mobili Ambiente in particolare cura la valutazione di tutti gli impatti ambientali nel settore delle grandi infrastrutture civili per progetti di sviluppo e riqualificazione di aree urbane nuove o in estensione e per grandi impianti industriali e di servizio come inceneritori, discariche e centrali per energia per i quali predispone studi sulle componenti atmosfera acque, suoli, rumore esosfera, paesaggio e ambiente socio-economico in sintesi i principali settori di mercato della società sono bonifiche aree inquinate ingegneria ambientale del territorio monitoraggi ambientali infrastrutture e grandi opere ingegneria ambientale dell'industria fisica ambientale ingegneria della sicurezza pianificazione ambientale e sviluppo sostenibile sistemi di gestione ambiente e sicurezza a qualità formazione professionale migliore earcocone migliore stimola ingegneria ambientale ingegneria ambientale il i Grazie a tutti.